Quest'anno abbiamo avuto un olio eccellente per qualità e sicuramente più che buono da un punto di vista anche quantitativo. Per la prima volta abbiamo fatto delle percentuali e dei quantitativi di olio assolutamente interessanti. Tutto questo premia il grande lavoro che hanno fatto i nostri olificultori, le nostre aziende e soprattutto in un momento come questo dove, ripeto, il mangiare bene, il mangiare sano c'è questa forte riscoperta da parte del consumatore, questo sicuramente è uno di quei prodotti... Su cui ci si può mettere a mano su poco, ce lo dice il direttore del consorzio siamo tranquilli. No ma anche per i bambini, io non voglio parlare del vino perché chiaramente può avere delle controindicazioni su determinate età ma l'olio è veramente un fattore benefico, è una medicina da un punto di vista. Questo me ne sono accorto anche io, sono bambini piccoli e effettivamente l'olio comincia ad andare a cercarlo, a favorarlo... No ma infatti come diceva giustamente il professor Galanti al posto delle bevante gassose che gonfiano dei grassi di questi soliti prodotti fritti eccetera ritornare alla vecchia fettunta al pane con l'olio da far far merenda ai ragazzi sicuramente è molto meglio rispetto a qualsiasi altro alimento che può dare del vino. Grazie direttore. Grazie. Grazie. Grazie.